Ben trovati, è tempo di cambiare, dicono molti quando inizia il mese di settembre. Per noi è tempo d'estate, tempio d'estate, siamo proiettati verso le 11.30 quando ci collegheremo in diretta con la Chiesa San Pio per la celebrazione eucaristica. Adesso invece ci colleghiamo immediatamente con Leonardo perché sta a due passi, ma è giusto, è proprio impellente che io vi mostri dove si trova, un luogo al chiuso e c'è un perché. A te Leonardo, buongiorno. Buongiorno Maria Pia, grazie per la linea. Dunque anche per noi è tempo di cambiare. In questo mese di settembre che è cominciato con l'incertezza del meteo che non ci permette di stare al di fuori degli studi televisivi nella consueta location della Chiesa di San Pio da Pietrelcina e del complesso del santuario intitolato al santo collestimmata in generale. Siamo a pochi passi, è detto bene, perché siamo praticamente a, penso, 6-7 metri dai nostri studi nella sala di lettura Padre Pio al Civico 93. Chiedo informazioni al mio ospite Antonio Villani che è il responsabile di questo posto straordinario, poco conosciuto in realtà, ma che racchiude in sé, potremmo dire, uno dei tanti aspetti della vita e delle opere di Padre Pio da Pietrelcina. Innanzitutto Antonio, grazie e buongiorno per essere qui. E un ciao anche da parte mia. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, Maria Pia ti saluta. Ricampio. Benissimo. Ci vediamo spesso. La sala di lettura Padre Pio è un posto straordinario, dicevo, perché qui siamo circondati dai libri, dai manuali che raccontano non solo alcuni aspetti della storia della Chiesa, ma della cultura in generale, ma più nello specifico della spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina, perché chi vuole scoprire la bellezza della spiritualità di Padre Pio, partire dalla sua vita, delle sue opere, di ciò che ha scritto, di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto, deve venire qui, perché qui potremmo dire c'è tutto ciò che riguarda Padre Pio. Vero Antonio? Esatto. La biblioteca è monotematica, c'è tutto quello che riguarda su Padre Pio, dagli libri che sono stati pubblicati, agli articoli. Abbiamo una raccolta degli articoli dal 1919 ad oggi, che raccolgono quindi quotidiani, settimanali, mensili. Si ripercorre tutto ciò che la stampa ha seguito, man mano ci sono stati gli eventi su quello che ha ruotato intorno alla figura di Padre Pio. Quando è nato questo posto, Antonio? La biblioteca è stata inaugurata nel 1990, esattamente il 2 maggio. L'esigenza è nata perché spesso parecchi devoti andavano da Padre Gerardo di Fumeri, compiando Padre Gerardo di Fumeri, che era il vice postulatore della causa di beatificazione e santificazione di Padre Pio. Lui non aveva tanto tempo perché si dedicava allo studio quindi della causa e ha creato questa biblioteca per mettere a disposizione di tutti i pellegrini tutto ciò che riguardava Padre Pio e quindi poter fare gli studi, approfondire. Ed è usata anche da molti ragazzi che abbiamo parecchie tesi di laurea, quasi una trentina di tesi di laurea su Padre Pio. Sì, in effetti qui tanti di noi, perché anch'io ci sono passato per studiare, insomma per scrivere la tesi di laurea, vengono per scoprire la spiritualità di Padre Pio, come dicevamo prima, a partire da ciò che ha detto e da ciò che è stato scritto su di lui. Ovviamente questo è un posto aperto a tutti, Antonio. È aperto a tutta la gente che vuol venire, un po' tranquillamente, quindi non servono tessere per l'accesso. Noi siamo aperti tutti i giorni, dalla mattina dalle 8 fino alle 14, di pomeriggio soltanto il martedì e il giovedì, dalle 16.30 al 18.30, quindi l'accesso è libero. Allora Maria Pia, io ti restituirei la linea, perché... Sì, vai, dimmi. Ma hai letto nel pensiero, avete detto già molte cose, direi che ci possiamo sentire più tardi, così aggiungiamo anche qualche altro elemento. Grazie. Va benissimo, ok, a dopo. E grazie dunque a Leonardo e ad Antonio Villani. Adesso vogliamo subito parlarvi del Santo del Giorno. E a proposito di Santi, comunque avrete tante possibilità proprio, andando nella sala di lettura, di scoprire anche l'iconografia in tanti bellissimi volumi. Ma noi andiamo alla scheda. Sant'Egidio, abate ed anacoreta. Non conosciamo le date di nascita e morte di questo santo, la cui vita fu intessuta di prodigi, ma sappiamo appunto che visse nell'età merovingia. La tomba, venerata in un'abbazia della regione di Nîmes, in Francia, quella che fondò a Saint-Gilles per la precisione, risale appunto a quell'epoca così importante di passaggio per l'Europa intera. Giunto da Atene per vivere come eremita in un bosco, nella Francia meridionale, presso la foce del Rodano, condusse un'esistenza tra preghiera, austerità e digiuni. E impietosito da tanto sacrificio, c'è una leggenda che si racconta, vi ho spiegato già tante volte che non si tratta di leggenda come intendiamo noi, ma proprio di episodi straordinari da ricordare, oltre che da leggere. Il signore mandò a Sant'Egidio una cerva che gli forniva latte ogni giorno. Durante una battuta di caccia, il re dei goti, Flavio, scoprì che c'era appunto nei boschi questo eremita. Perché? Perché il sovrano per errore ferì il santo con una freccia che aveva scagliato per uccidere invece quella bella cerva. Poi da questo, anziché un litigio, nacque una bellissima amicizia. Ecco qui che arrivano poi i possedimenti, che naturalmente Egidio, con il giusto spirito di Anacoreta, non usa per arricchirsi, ma proprio per far prosperare un'attiva comunità di monaci, di cui divenne il padre spirituale, e fino alla morte è sopravvenuta probabilmente a metà dell'VIII secolo, proprio il primo di settembre. Ricordiamo dunque, approfittiamo per dire che quello che molti credono sia l'oscuro Medioevo, in particolare l'alto Medioevo, fu un'epoca in cui fisicamente e materialmente l'Europa cambiò nei suoi territori, ma grazie alla forza spirituale di tanti, soprattutto appunto monaci. E adesso vogliamo subito invece andare all'oggi, a un oggi relativamente recente, perché quest'anno ricorre la sedicesima giornata nazionale per la custodia del creato, fissata appunto al primo settembre, con la Chiesa italiana in prima linea, in cammino verso la quarantanovesima settimana sociale dei cattolici. si svolgerà, lo vedevamo anche ieri, dal 21 al 24 ottobre a Taranto. In due parti abbiamo cercato appunto di riassumere le tante cose che l'arcivescovo di Taranto, un grande esperto di lavoro, di dottrina sociale, di rispetto appunto degli elementi terra, creato, lavoro e spiritualità, ecco l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro era stato lungamente intervistato proprio da Leonardo Fania e adesso ascoltiamo un altro stralcio. Eccellenza, io consiglio, l'ho fatto preparando questo incontro con lei, ma è un consiglio che do anche a tutti coloro i quali ci stanno seguendo di leggere il documento di preparazione a questa settimana sociale, l'instrumentum laboris, il titolo lo abbiamo già detto, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. All'interno di questo documento, molto agile, neanche cento pagine, si riesce a capire davvero qual è la visione che il cattolico deve avere nei confronti della cura della casa comune, come descrive anche Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si e nella Fratelli Tutti che lei ha citato. Noi purtroppo, eccellenza, non possiamo per ovvie ragioni di tempo andare a rileggere tutto il documento, ma quello che le voglio chiedere, alla luce anche di quello che lei ha appena detto, quale sarà dunque l'Italia del futuro, l'Italia che abiteremo nei prossimi anni, continueremo a parlare dei soliti problemi che ci affliggono ormai da decenni, oppure ci sarà una svolta integrale? Beh, l'Italia del futuro è legata, innanzitutto come diciamo nel nostro testo, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. Il nostro futuro è questa connessione che esiste tra la questione ambientale, la questione lavorativa e la questione del futuro. L'ambiente non può essere separato dal lavoro e il lavoro non può essere distruttivo dell'ambiente e insieme preparano il futuro, però per le nuove generazioni. Quindi una visione di insieme, la via del futuro, è quella di una transizione ispirata alla prospettiva dell'ecologia integrale. La transizione comporta una conversione, un cambiamento innanzitutto di mentalità, una visione della persona umana diversa. L'elemento che ora abbiamo, che definisce la persona, è che io per dire, della natura posso utilizzare quello che voglio, senza limiti e senza limitazioni che vengono dall'esterno. E questa è la funzione predatoria dell'attività umana. Allora per il futuro ci vuole un atteggiamento nei confronti della realtà che non è predatorio. Io sono stato in Brasile 27 anni, quindi conosco bene la situazione anche dell'Amazzonia. Nell'Amazzonia questo atteggiamento predatorio è chiarissimo. Quando si fanno i grandi incendi di estese, grandi quanto Mezzapuglia, e poi cosa succede? Si distruggono tutte le specie, si distrugge tutta la diversità, la biodiversità, e poi ancora si distruggono le culture. Qual è il principio? Io posso fare della terra quello che voglio ed estrarre per il mio maggior guadagno e quello che voglio. Invece la prospettiva del futuro è proprio quella di un profondo cambiamento della mentalità in primo luogo e poi legato al cambiamento della mentalità non predatoria, ma che custodisce e che coltiva il creato, anche un cambiamento degli stili di vita individuali e consuetudini e norme sociali virtuose definite di tanti comportamenti individuali nella stessa direzione. Solo dalla conversione personale e dalla conversione comunitaria nasce un desiderio di maggiore generatività. Cosa significa generatività? Generatività è un'altra parola legata alla sostenibilità. Cos'è sostenibile? Quando io faccio qualcosa che dura nel futuro, che non compromette il futuro dei miei figli e dei miei nipoti e quindi le cose non per consumare, ma per generare, per creare qualcosa di buono per me, ma anche per il futuro. Quindi oltre ad un lavoro individuale, in questo senso la prospettiva è quella di lavorare per modificare strutture economiche di mercato, cioè non avere come punto di riferimento lo sviluppo tecnologico separato dalla coscienza, ma lo sviluppo tecnologico unito ad una coscienza, ad una visione della vita che sia in difesa sia dei diritti delle persone, quindi del grido dei poveri, delle persone più bisognose e sia del grido della terra. Parole sempre molto chiare, molto efficaci, quelle di Monsignor Santoro, che tra parentesi guida sempre, proprio nel mese di settembre, un pellegrinaggio nutritissimo sulla tomba di San Pio e magari sarà verso metà mese, come in genere accade. Ma noi alle 10.59 vogliamo anche farvi sentire come già dall'inizio del pontificato Papa Francesco, che ultimamente, lo sappiamo, ha ricollegato la questione del rispetto del creato anche alla pandemia drammatica che stiamo vivendo. Ecco, il Vescovo di Roma già all'inizio del suo pontificato parlava in questo modo. Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo coltivare mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso. Quanta attenzione, passione e dedizione. L'attivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia ma a ciascuno di noi. È parte del suo progetto. Vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo compito affidandoci da Dio creatore richiede cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare. No, non la custodiamo, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Ma il coltivare e custodire non comprende solo il rapporto tra noi e l'ambiente, tra l'uomo e il creato. Riguarda anche i rapporti umani. I papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all'ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi. Lo vediamo nell'ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell'uomo. La persona umana è in pericolo. Ma questo è certo, eh? la persona umana oggi è in pericolo. Ecco l'urgenza dell'economia umana. E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda. Non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte e molti dicono sì, è giusto, è vero, ma il sistema continua come prima perché ciò che domina sono le dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica. Questa cultura dello scarto tende a diventare mentalità comune che contagia a tutti. la vita umana e la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o non è affidabile, se non serve ancora come il nascituro o non serve più come l'anziano. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore che va ben al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene però che il cibo che si butta via è come come si fosse rubato dalla mensa di chi è povero e di chi ha fame. invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che affrontando seriamente tale problematica siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Sono le 11 e 4 minuti primi abbiamo visto il Papa e naturalmente era in riferimento alla giornata per la custodia del creato la salvaguardia usate i termini che volete ma noi avevamo già un appuntamento preso con la sala di lettura dove c'è Leonardo Fania ed il suo ospite che torna a salutare cioè Antonio Villani a voi Sì grazie Maria Pia allora riprendiamo la linea dalla sala di lettura Padre Pio insieme ad Antonio il responsabile di questo luogo bellissimo perché ci siamo spostati di pochi metri perché vogliamo farvi vedere quelli che potremmo considerare a tutti gli effetti dei reperti storici perché Antonio ora ci spiegherà in effetti che cosa stiamo guardando e cosa Luigi sta inquadrando intanto sta inquadrando il primo articolo che è stato scritto su Padre Pio sul giornale d'Italia esattamente il 9 maggio del 1919 dove un anonimo ha scritto questo articoletto i miracoli di un cappuccino a San Giovanni Rotonto l'anonimo si capisce subito che nella stesura di questo breve articolo è una persona che conosce Padre Pio e quindi conosce i luoghi sicuramente è una persona del posto dove in modo molto mirabile ha sintetizzato tutti i doni di Padre Pio i suoi miracoli la gente che affluiva quindi spiegava che lavorava con grande abnegazione quindi lì è sintetizzato proprio il lavoro che Padre Pio svolgeva nei primi anni che stava qui a San Giovanni Rotonto c'è una raccolta completa perché questa raccolta dell'eco della stampa inizia nel 1919 fine ai tempi di oggi e continuerà fino al 2006 come potete vedere ci sono gli articoli in originali dal 2006 poi questa società che fa questi ritagli di articoli ce li fornisce in formato A4 quindi diciamo in file e quindi automaticamente non c'è più l'originale è un patrimonio credo senza essere smentito è l'unica biblioteca che possiede questo materiale quindi è una cosa molto importante che va preservata e va conservata proprio per essere metterlo a disposizione poi degli studiosi e ce ne sono tanti perché comunque si continua a interessarsi alla figura di Padre Pio quindi a studiare e a fare sempre dei lavori nuovi e proprio per questo motivo noi qui stiamo toccando con mano un originale perché di questo stiamo parlando non ci sono copie speriamo e auspichiamo che in futuro ecco possa avvenire anche un processo di digitalizzazione per preservarli ovviamente dalla corruzione si tratta di fare questo lavoro proprio perché con il passare del tempo e questa è una cosa ovvia l'inchiosto tende a sbiadire è una cosa un processo fisiologico normale per quanto riguarda la carta e qui invece abbiamo un altro libro molto importante il primo libro scritto su Padre Pio è una biografia di Giuseppe De Rossi che è uno pseudonimo perché l'autore è Emanuele Brunatto è stato scritto nel 1926 e tra l'altro questo testo fu messo all'indice dalla Chiesa dove il Vaticano invitava i devoti ad attenersi alle varie disposizioni che sono state fatte precedentemente quindi perché si parlava di presunti miracoli quindi ancora c'era da capire bene quello che Padre Pio stava facendo e succedeva intorno a Padre Pio e quindi invitava i devoti ad attenersi alle loro disposizioni bene allora l'invito è quello di visitare questo posto che racchiude come dicevamo anche nel primo collegamento la storia di Padre Pio fin dal primo momento in cui il suo nome è apparso sulla stampa perché qui abbiamo detto come Antonio ci ha detto 1919 quindi siamo un anno dopo le stimmate quindi anzi anche meno di un anno quindi la storia di Padre Pio è racchiusa in questo posto qui è possibile consultarla e Antonio ovviamente che ormai da tanti anni svolge questo servizio sarà in grado anche di orientare le curiosità magari dei devoti di Padre Pio nella mia piccola esperienza qui di molti anni nella biblioteca quindi sono a disposizione di chiunque voglia usufruire di tutto il materiale che è regolarmente schedato bene grazie Antonio Maria Pia non so se hai qualche domanda da studio altrimenti ti lasciamo la linea volevo fare riferimento se mi permettete un attimo anche a quello che ha detto il Papa proprio all'udienza di oggi i nostri telespettatori l'hanno seguita in diretta come ogni mercoledì e il Papa dice sono stolti coloro che sottovalutano il valore prezioso della fede siccome lì dove siete voi effettivamente ci sono tanti tesori nascosti che riguardano Padre Pio e la sua storia la sua vita ma è anche importante proprio dare un supporto e lo si fa attraverso dei volumi antichi delle vicende che noi consideriamo sorpassate ecco io vorrei collegare proprio le parole che ha detto il Papa poco fa a questo prezioso lavoro e a questa preziosa eredità di persone come Padre Alessandro da Ripabottoni l'abbiamo visto nella precedente vostra inquadratura in foto appunto e poi c'è il busto di Padre Gerardo appena si entra in sala di lettura cosa vogliamo aggiungere in conclusione sì certo noi ovviamente ci siamo soffermati sulla figura di Padre Pio perché ovviamente è più strettamente ecco anche aderente a quello che noi cerchiamo di trasmettere attraverso la nostra emittente però io all'inizio se ricordi Maria Pia ho anche parlato di cultura in generale in questo posto e Antonio ovviamente oltre a Padre Pio abbiamo anche altri volumi che ci aiutano la storia locale che è molto importante oltre a tutti i testi di religione quindi nello specifico monotematica perché ed è scontato il discorso di Padre Pio ciò non toglie che ci sia anche altro materiale di cultura generale ma nello specifico Padre Pio storia locale storia della Chiesa quindi ovviamente chi volesse qui è possibile reperire anche altro altro materiale e quindi noi vogliamo sottolineare ecco anche attraverso questo luogo ciò che tu ci suggerivi attraverso le parole di Papa Francesco Maria Pia a te la linea grazie grazie ancora per questo prezioso collegamento in cui avete visto appunto anche quel documento inestimabile che è appunto l'originale una soltanto del giornale d'Italia in quel 9 maggio 1919 ma noi se volete attraverso il nostro canale YouTube ci eravamo occupati della morte di Padre Pio attraverso il racconto che ho potuto seguire cercando di dare una scorsa a quei volumoni proprio con una morte che fa notizia e dunque se volete ritrovare questo profumo di giornali d'epoca potete farlo cercando agevolmente sul nostro canale YouTube il programma Una morte che fa notizia e adesso invece a propos dei giornali voglio semplicemente segnalarvi che il primo settembre è celebre in tutti i calendari del mondo per l'anno 1939 invasione della Polonia e quindi inizio della grande tragedia della seconda guerra mondiale ma il primo settembre del 1715 moriva anche un grande personaggio della storia europea oggi abbiamo parlato di Francia col santo e lo rifaccio con Leroy Soleil era così chiamato Luigi XIV che appunto morì come oggi nel 1715 era nato il 5 settembre del 1638 un grandissimo personaggio della storia e con questo accade se volete ritorniamo appunto all'oggi in termini di segnalazione di una grande veglia di preghiera che si svolge oggi su iniziativa dell'Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo nazionale per la custodia del creato camminare in una vita nuova la citazione della lettera di San Paolo ai Romani transizione ecologica per la cura della vita al parco San Camillo qui a San Giovanni Rotondo presiede Don Luca Santoro il vicario generale dell'Arcidiocesi e ci sarà anche il direttore della pastorale sociale dei giovani Massimiliano Arena la comunità laudatosi di questa città insomma un evento molto bello che è costitutivo di un'altra mentalità e noi a proposito di persone che sono sempre giovani e che costruiscono un domani migliore ora andiamo a prendere dal nostro archivio un grande vecchio tra i cattolici e soprattutto tra i cappuccini di oggi e padre Raniero canta la messa l'incarnazione ha portato una ragione in più per prendersi cura del debole e del povero a qualsiasi razza o religione appartenga infatti l'ingarnazione non dice soltanto che Dio si è fatto uomo ma anche che uomo si è fatto Dio cioè che tipo di uomo è divenuto il figlio di Dio e la risposta è non un uomo ricco potente ma povero debole indifeso uomo e basta il modo dell'incarnazione non è meno importante del fatto dell'incarnazione è stato questo il passo avanti che Francesco D'Assisi con la sua esperienza ha fatto fare al pensiero cristiano prima di lui si era insistito quasi esclusivamente sugli aspetti ontologici dell'incarnazione l'unione delle nature l'unità della persona e via dicendo questo era necessario per contrastare l'eresia ma una volta messo al sicuro il dogma non si poteva rimanere sempre a questo livello senza inaridire il mistero cristiano e fargli perdere la sua presa la sua forza contestatrice nei confronti del peccato dell'ingiustizia umana il santo padre raccoglie questo messaggio quando fa dell'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta uno degli assi portanti della sua enciclica sull'ambiente che cos'è infatti che produce nello stesso tempo i guasti peggiori dell'ambiente e la miseria di immense masse umane se non l'insaziabile desiderio di alcuni di accrescere a dismisura i propri possedimenti e i propri profitti alla terra si dovrebbe applicare quello che gli antichi in particolare il poeta pagano lucrezio diceva della vita mancipio nulli datur omnibus usu non è data in proprietà a nessuno a tutti in uso ci sono tanti compiti che l'uomo ha nei confronti del creato alcuni più urgenti degli altri l'acqua l'aria il clima l'energia la difesa delle specie a rischio di essi si parla in tutti gli ambienti e gli incontri che si occupano di ecologia c'è però un dovere verso il creato di cui non si può parlare se non in un incontro tra credenti ed è giustissimo che sia stato posto al centro di questo momento di preghiera tale dovere la dossologia la glorificazione di Dio a causa del creato una ecologia senza dossologia rende l'universo opaco come un immenso mappamondo privo un mappamondo di vetro privo dalla luce che dovrebbe illuminarlo dall'interno se Francesco D'Assisi ha qualcosa da dire ancora oggi a proposito di ecologismo è solo questo egli non prega per il creato per la sua salvaguardia a suo tempo non ce n'era bisogno prega con il creato o a causa del creato o ancora a motivo del creato sono tutte sfumature contenute nella preposizione che lui usa nel cantico delle creature per laudato sì mi signore per frate sole per sorella luna per sorella madre terra il suo cantico è tutta una dossologia un inno di ringraziamento ma proprio da qui gli deriva quel rispetto straordinario che Francesco aveva ogni verso ogni creatura per cui voleva che perfino alle erbe selvatiche fosse riservato uno spazio per crescere anche questo suo messaggio è stato accolto dal nostro santo padre nell'enciclica sull'ambiente essa inizia con una dossologia anzi al titolo di una dossologia laudato sì e termina significativamente con due distinte preghiere una per il creato e l'altra con il creato da quest'ultima attinciamo alcune invocazioni che ci servono per concludere in preghiera questa nostra riflessione signore dio uno e trino comunità stupenda di amore infinito insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo dove tutto ci parla di te risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato donnaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste dio d'amore mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra e il nostro destino qui umilmente è scendere improvvisamente di tono dal sublime che abbiamo appena vissuto alla prosa dello scandire di un programma come questo ma dopo ritorneremo a qualcosa anche di più sublime cioè la celebrazione eucaristica intanto linea la regia eucaristica